Piantare gli alberi in città ha un significato molto importante dal punto di vista sia naturalistico che dal punto di vista del benessere dei cittadini. Il progetto nasce da una proposta di Stefano Boeri che ha da tempo in corso un lavoro sul tema del rapporto tra natura e città sostanzialmente. È stato fatto un lavoro di approfondimento in Università al Politecnico di Milano e sulla base di questo è stato fatto un censimento di tutte le aree che possono essere considerate disponibili per mettere delle piante a dimora. È stato fatto un calcolo e è lanciata una sfida che è quella di arrivare entro il 2030 a piantare almeno 3 milioni di alberi nella città metropolitana di Milano, che vuol dire Milano più i 134 comuni che sono nella vecchia provincia di Milano. Quindi l'obiettivo del progetto è arrivare a piantare 3 milioni di nuovi alberi nella città metropolitana di Milano. Siamo certi che il foresto mi verrà replicato, siamo contenti di questo perché naturalmente il nostro obiettivo competitivo ma collaborativo, per cui chiamiamo tutti sia all'interno della città metropolitana ma anche tutte le altre città che hanno bisogno di questo tipo di interventi a lavorare con noi.